No, non c'è Ma vedi che si fa innalata, figlio Altro pupillo Oddio hanno fatto un gol di rovesciata, bellissimo Dinamo, poi te li fai vedere I video tu li vedi o no? Non li vedo più Perché? Vabbè, ma su Youtube ci puoi andare tranquillamente Basta che cerchi Davide e Bruno Su Youtube Davide e Bruno? Si, che li metto io i video Non c'è il nome, è il cognome Oggi si, comunque Si, non c'è il ghiacciato I punti di pere Fatti sinistro Già il giacato, non c'è Non c'è C'è il giorio Io per il discorso Dico Vabbè, non c'è Non c'è Non vanno Troppo bene Troppo il gioco Troppo il dio Un po' mi riazza No, non c'è la palla giù. Chi sta, signore? Sì, no, questo sì, mi fa. Se non fosse la sanzia, credo. Uno qua, uno qua. Che cazzo! No! Bravi, bravi, bravi ragazzi! Bravato, finchè, si ha fottuto una macchina. No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! Davide, ci vediamo a Matteo. Se no andiamo a mangiare entro il gennaio, la perdiamoci. Non gioca una settimana, quindi. Non gioca mai. No, è vero. E mettere pure la data io, la fai titta, cazzo. Che cazzo? E chi cazzo? Ognuno ha sempre uno. Buono, bella azione, bravi. Lodo. Nessi tutto fuori, qua. 4-0. Ma scusa, una domenica al pranzo vi verrebbe male. Ma perché ognuno fa l'attrazione? Pabba, per tutte le partite, cioè per me alla fine ci posso riuscire. Eh, io sono forse quello che ha... me ne ho amore di tutto. Ma dove si ci va? Devi uscire dall'autostrada e svincolo 3-B. 3-B? Sì. Ai, ai. Che vicino? Non so se lo conosci com'è strada. Diciamo se sta strada per arrivare a Torri Artale. Torri Artale? Sì. Vabbè certo, non te lo ricordo. Sì. Sì. 5-0. Torri Artale. Sì. 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 Casales, 6-1 Fine primo tempo, 6-1 Pena da lavare Pena da prenderla